Lo Sherwood Festival, tantissime cose, musica, concerti, cinema, come abbiamo visto adesso con il nostro... Come sta andando Marco Rigamo, Carlo? Marco Rigamo sta andando alla grandissima, mi verrebbe da dire citandoti, e sta andando tutto molto bene, mi dicono anche su Twitter, dicono che va tutto bene, stai andando benissimo, sei fortissimo. Se tutto va bene, noi siamo contenti, dicevamo tante cose allo Sherwood Festival, anche i libri, perché a noi ci piacciono davvero tanto, e oggi parliamo di un libro particolare, un libro speciale, con noi Matteo Marcon, ciao Michele Marcon, perdonami, però sbagliarsi si può, perché questo libro, mio caro Carlo Vitelloni, in territorio nemico, lo hanno scritto in 115, l'hanno mandato lui, ma poteva venire chiunque, capito? Era l'unico disponibile. Sei l'ambasciatore dei 115, ma sei stato nominato in rete, come si è svolta la procedura? di selezione. Ma in realtà, essendo distribuiti su tutto il territorio, ero il più vicino, tutto qua. Ah, siete disseminati su tutta la penisola italica, infatti ho letto che questo libro è pure disseminato, racconta di una storia... È una gladio della letteratura, praticamente. ...parsa nella penisola italica. Allora Michele, in territorio nemico, scrittura industriale collettiva, parlaci di questo progetto intanto, se ti va ad iniziare da quello, oppure entra subito a gamba tesa nell'argomento, in questo viaggio fantastico. Ma io preferisco partire dal progetto, che poi è la cosa interessante di questo romanzo, che è scritto con il metodo della scrittura industriale collettiva. Cos'è? Cos'è questa scrittura? Che è stato ideato da due fiorentini, Vanni Santoni e Gregorio Maggini. Praticamente dà la possibilità a chi... lo slogan è tutti scrivono tutto. E quindi dalla fase iniziale di stesura di piccole schede con la descrizione dei luoghi, dei personaggi, degli avvenimenti, vengono raccolte e messe assieme tutte quante, poi dei compositori. Prendono tutto, sintetizzano e alla fine, in questo caso, è venuto fuori un romanzo, in territorio nemico. Da 4.000 pagine scritte, 300 pagine di romanzo. Da 4.000, scusami solo per capire questo dettaglio. Cioè, scrivono a ruota libera, poi tutto questo materiale confluisce in un gruppo di studio. Cioè, chi è che poi fa effettivamente la... Ma in realtà non è proprio a ruota libera, perché c'è... Siamo proprio svizzeri e molto rigorosi. C'è la compilazione di schede molto precise e dettagliate. E poi in realtà ci sono i due capi, appunto Vanni e Gregorio, con l'aiuto in questo caso di altri due compositori, che hanno preso tutto il materiale. Loro non hanno scritto nemmeno una riga, e sta qui, secondo me, la grande forza. E hanno mescolato tutto quanto insieme, omogenizzando lo stile. E sembra scritto da una persona sola, in realtà siamo in 115. Sì, questo davvero stupisce, perché ci deve essere un obiettivo iniziale, proprio per quanto riguarda la trama, no? E anche, voglio dire, il finale, chi l'ha deciso? Cioè, c'era già un percorso da seguire? C'erano delle tappe forzate da... Oppure c'è libertà e quindi si è costruito tutto mano a mano. E soprattutto c'è un finale. Esatto, sì. Un finale c'è, ma non ve lo svelo. Chiaramente. Se no gli altri 114 vengono a cercarti. No, niente spoiler stasera, ragazzi. No, in realtà il topic iniziale, l'idea era quello di scrivere una storia. Una bella storia. E poi è venuto fuori di scrivere un romanzo storico, perché abbiamo trovato, abbiamo riscontrato che tra i 115, uno dei momenti storici in cui tutti quanti, in maniera diretta o indiretta, con ricordi dei nonni, degli zii o quant'altro, avevamo qualcosa da dire, era il periodo della resistenza. E quindi c'è stata una prima fase di raccolta di aneddoti e di ricordi personali, che poi hanno costruito la base per strutturare le storie che sono raccontate all'interno del romanzo. Sì, infatti, anche questo naturalmente è un aspetto molto molto importante, perché si parla poi dopo di uno dei due, praticamente, periodi storici italiani, diciamo, più raccontati da letteratura e dal cinema, insomma. E chiaramente, però, c'era ancora la necessità di dire qualcosa. Perché, secondo te? Ma, la nostra necessità, in realtà, era quella proprio di mettere... No, volevo, sottointendevo, non è che forse è mal raccontato quel periodo? Ma, in realtà, il punto di vista nostro è molto diverso da quello che è stato utilizzato finora, proprio per la distanza temporale, cronologica, che c'è dagli avvenimenti. Se noi pensiamo alla cosiddetta epica della resistenza dei vari Fenoglio, Calvino, loro l'hanno vissuta direttamente, noi, in realtà, arriviamo con 50 anni di ritardo e quindi facciamo prima un grande lavoro, diciamo, storiografico, quasi, e poi inseriamo questo background storico in un romanzo avventuroso, perché è un romanzo d'azione, fondamentalmente, anche. Ecco, ma le copie, cioè, quando poi dopo, alla fine, naturalmente, bisogna spartirsi il grano, siamo in 112, come facciamo? Tutto in beneficenza. Ah, venissi, così si fa, questo... Ci piace, eh? Ci piace, ci piace. Questa storia dei compositori, della scrittura industriale... Perché se la sei, si parla anche di crowdfunding, rispetto alla musica, malta sui tubi, eccetera, e poi siamo contenti a parlare di questo. C'è un filo che ci lega, ci sono due fili che ci legano. Io sono sicuro che arriveremo alla fine del mese che avremo legato tutto e sarà tutto fantastico. Speriamo davvero di sì. Io apprezzo anche molto, comunque, lo dico anche a titolo personale, come casa editrice, la Minimum Fax, che si getta in questi esperimenti, comunque dà possibilità di crescere dei progetti, anche se magari all'inizio possono sembrare un po' bislacchi. Tra l'altro, infatti, noi inizialmente siamo partiti con un esperimento, non sapevamo che la Minimum Fax ci avrebbe pubblicato. Io, per esempio, per un anno non ho saputo assolutamente nulla del romanzo, fino a che un giorno arriva una mail, ragazzi, ci pubblica Minimum Fax. Molto buono, molto buono. Ci chiedevamo prima, io e il noto giornalista indipendente Ivan Grozni, non so se io lo chiediamo, la facciamo questa domanda, ma di fatto, in questo volume che appunto si chiama In territorio nemico, quante pagine hai scritto tu? Cioè, tu quante ne hai? Questo non lo sa neanche lui da quello che abbiamo capito. È impossibile sapermi. Cosa c'è di tuo? Perché è tutto mescolato, le parole, dovrebbe contare le parole. Ma neanche delle righe, c'è niente. Qualunque autore che ha scritto delle schede, che ha contribuito alla stesura, che va a rileggere il romanzo, non riesce a cogliere quello che ha scritto. Questo è stato un gran lavoro di compositore. Questo è il grande lavoro davvero che appunto è stato fatto. Ed è interessante. Sono altri lavori in cantieri di questo genere che tu... Allora, in realtà il metodo era stato applicato inizialmente ad alcuni racconti brevi. Questo è il primo caso di un romanzo fatto e compiuto che poi è stato anche pubblicato. Adesso è in cantiere, ve la butto là in realtà, non so neanche bene a che punto siamo ai lavori, la versione in augmented reality, la realtà aumentata del libro. Quindi uscirà un... Dello stesso libro? Dello stesso libro. Uscirà un e-book transmediale. L'hai già detto in altre web tv questa cosa? È un'esclusiva? È un'esclusiva. Non l'hai detto ancora da nessuna parte? No, in realtà l'abbiamo presentato al Salone del Libro però. Eccolo là. Eh ragazzi. Dopo il Salone del Libro siamo venuti a Sherwood. E quindi sostanzialmente non solo leggere il libro in versione e-book ma anche vedere dei contributi? Assolutamente sì. Sono stati raccolti un sacco di foto, video, testimonianze nella fase iniziale. Perché non sfruttarle? Quindi sarà un grande ipertesto della resistenza. Benissimo. Noi ti ringraziamo davvero. Ricordatevi, il libro naturalmente lo trovate anche nella nostra libreria ma lo trovate in tutte le librerie d'Italia. Nelle migliori. Ci auguriamo le migliori naturalmente. In territorio nemico, romanzo appunto edito da Minion Fax. Noi ti ringraziamo e speriamo di... Posso dire anche l'ultima cosa? Perché io lui ho scoperto poco prima dell'intervista che ci avevamo conosciuti in occasione del MEI a Faenza l'anno scorso perché fa parte del gruppo Finzioni. E il bellissimo segnalibro di Finzioni c'è scritto La letteratura è noiosa da una parte leggere è fico dall'altra parte. Oggi fra l'altro Gianni Ferigani che è una delle mie iscrittrici preferite a Firenze ha twittato una foto con lei con questo segnalibro quindi parliamo anche del... e salutiamo i ragazzi di Finzioni. Oltre a segnalarvi questo libro in territorio nemico scritto l'industria collettiva non l'ha scritto lui ma 115 persone e poi i misteriosi compositori che sembra quasi una setta no? Bisignani ne ha parlato dei compositori fare nel libro... Eh no ma nel prossimo nel prossimo c'è sicuramente si è parlato di scrittura indipendente e collettiva si è parlato di territorio nemico edito Minimum Fax Michele e Marcon noi ti ringraziamo e speriamo di riaverti ancora porta anche altri amici le prossime volte hai 114 facciamo una scampagnata che è un po' il numero di quelli che hanno tradito alle curinarie del PD i 114 eccoli chi solo abbiamo scoperto perché erano intenti a fare altro grazie Michele grazie davvero abbiamo una clip noi siamo ancora qua perché vi accompagniamo in questa serata tra poco i concerti al main stage dalle 21 e 35 questa è la Sherwood di Sherwood Festival hashtag hashtag Sherwood13 a tra un pochetto con il concerto che inizierà a minuti a minuti a minuti